Iniziatevi gli occhi capitano, tutti i marinaio fedeli e capaci, ogni uomo vale quel che costa, ed è pazzo in più. Quindi è questa la tacciorma abile e robusta? Voi, marinaio, Cotton, signore, signor Cotton, avreste la forza e il coraggio di eseguire gli ordini e restare saldo davanti al pericolo e a morte certa? Signor Cotton, rispondetemi. È muto, signore. Al povero diavolo l'hanno mozzata la lingua, così ha addestrato il papagallo a parlare per lui. Nessuno sa come ha fatto. Signor Pappagallo Cotton, stessa domanda. Ah, vento all'imile, vento all'imile! Comunamente lo interpretiamo come un sì. Certo che un sì. Soddisfatto? Hai dimostrato che sono matti. E quale sarà la nostra parte? Anna Maria! Scommento che non meritavi nemmeno questo. No, questo lo meritavo. Mi hai rubato la barca, porco! Ero... Prestito! Un prestito senza permesso, ma con tutte le intenzioni di portartela presto. Ma non l'hai fatto! Ne troverai una più bella! Contaci... Una più bella! Una più bella! Quella! Quella quale? Quella? Sì! Quella! Credite voi? Sì! Sì! Salvatele ancora! No, 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 no. Porta spaventosamente male avere una donna a bordo, signore. Porterebbe peggio non averla. No, 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 no. No, no, dai! Grazie.